Il metaverso non esiste. Tutto è un tema legato al termine, però almeno capire di che stiamo parlando, no? Perché se io chiamo carota un'automobile, io posso dire e affermare tranquillamente che le carote hanno le ruote e ti portano in giro. Se io cambio il significato di un termine, è evidente che poi lo adatto a quello che mi pare, no? Ragazzi, è per quello che è importante la parola. A proposito di parole, realtà virtuale, che cos'è? L'ealtà virtuale inizia nel 1906. Questo visore ha 62 anni. Questo signore, che è padre della realtà virtuale, un new yorkese, è stato un pioniere di quello. Tuttora è vivo, fortunatamente, e si occupa di questi temi ed è disperato ogni volta che sente la parola metaverso. Poi nel 93, che è quando ho iniziato io a fare questo mestiere, cioè il museo teatrale alla Scala di Milano l'ho realizzato io. Dopodiché, a un certo punto, nel 2003, grazie all'unione tra internet e possibilità tecniche, eccetera, arriva Second Life. Entri dentro, il mondo virtuale, hai l'avatar. È un mondo che ad oggi non è morto. Quando dicono è morto è Second Life. Second Life ha avuto un hype. Io andavo in giro ai convegni allora, nel 2003, a parlare come adesso. Cioè, dicevano Second Life, è arrivata Second Life. Mi ricordo Costa Crociere su Second Life. È sbarcata. Stessa storia identica vent'anni fa. Uguale. E io andavo in giro a dire, ma no, ma non dovremmo andare tutti in Second Life. Ma sereni, ma siete impazziti. E infatti non siamo tutti in Second Life. Nel frattempo non succede niente. Cioè, di questo mondo non parla più nessuno. Arriva Facebook che si compra nel 2014 Oculus. Perché? E qui ci siamo. Perché Zuckerberg la visione ce l'ha. Non è che non ce l'ha. Non c'erano visori di realtà virtuale disponibili a tutti. Erano sempre un po' di nicchia, un po' da sperimentazione. E quindi si è comprato quest'azienda ha detto, voglio fare il, come ha fatto Jobs quando ha detto, faccio il telefono con lo schermo, no, l'iPhone. Voglio fare un visore che possa essere accessibile. E l'ha fatto per davvero. Cioè, esiste. E ora, e poi c'è un'altra cosa che è separata. Non c'entra niente la realtà virtuale. Cioè, c'entra ma solo per poco. Che è la realtà aumentata. Ce l'abbiamo in tasca tutti. E questa qua, guarda. Non è che niente di che. Cioè, prendiamo il nostro telefono, il nostro iPhone, il nostro coso. Tutta lì se non ce l'hai naturale. Cioè, alla realtà si aggiungono informazioni. Questa è la realtà aumentata. Ok? Ikea lo ha fatto per fare questo. Provi il tuo mobile. Roba che è nelle nostre tasche tutti i giorni. Non è fantascienza. È nelle nostre tasche. Ok? E quello sì che farà parte delle nostre vite. E il mondo dove stiamo andando, tra poco sarà così. Però, quando attivi tutto, è così. Cioè, tappare la pubblicità, tappare quello. E questo, non con un dispositivo. Lo vedi con quello che avrai. I miei occhiali saranno così. O lenti a contatto che saranno così. È solo una questione di tempo, di... Guardate. Tutto. È tutto pubblicità. È tutto coso. Ognuno vede la sua. Sarà contestualizzata. Questo ti dice che c'hai una malattia. Devi andare a fare il coso. Ti apparo lì. Il taxi è occupato. Lo vedi che ti avvisa. Ma c'è la pubblicità. Io vedo Nestlé perché mangio Nestlé. Se non mangio Nestlé vedrò un'altra cosa. Questa è veramente il mondo dove andiamo, dove stiamo andando. Questo è veramente il futuro dei nostri figli. Poi c'è la mixed reality. Ok? È quella realtà aumentata con cui puoi interagire. Quando vi dicono nel metaverso si potrà fare... È trent'anni che si fa. È chiaro. La qualità cambia. All'inizio è tutto quadrettoni. Adesso non lo è più. I chirurghi che operano la distanza. Non mica operano il metaverso. Operano la distanza. Basta usare sta parola come cappello per ogni stupida cosa. Questa è mixed reality. Ok? Questa è mixed reality. Utile. Funziona. O divertente. Un gioco. Manca ancora un leghino, un mattoncino e poi colleghiamo tutto. Il 3D. Quando dici 3D. Non immersivo. Cioè io vado a un gioco. Quello è alla prospettiva. È in 3D. Ok? Cioè non è che non è in 3D. Non è 2D. Vedo una prospettiva 3D in uno schermo 2D. Quindi incominci ad essere semi-immersivo. Cioè c'è uno schermo 2D. C'è una parte 2D e una parte fisica. Una parte reale. Poi c'è quello immersivo. Quindi come appunto l'oculus e i vari visori. E poi c'è quello completamente immersivo. Dove per ora ci sono tutti questi device. Miglioreranno. Ma dove hai anche una sensazione fisica di non avere, di poter camminare. Perché c'è la piattaforma che si muove. Dove magari hai anche gli altri sensi. Perché mica basta solo gli occhi. C'è l'udito. C'è il tatto. C'è tanta roba. C'è il solfatto. C'è tanta roba inclusa per poter riprodurre. E darti la sensazione di essere da qualche altra parte. E ora siamo lontani mille millenni. Faccio gli studi. Cosa sono nel metaverso? Cioè se avete visto una mia puntata. Cosa sono nel metaverso? Nel studio virtuale. Nel studio virtuale. Ok? È uno studio virtuale. Poi mi diverto un mucchio. Perché nella mia parte geek da programmatore. Facevo programmatore. Adesso creo con Blender gli studi in 3D. Ma li faccio io. Cioè così come li faccio io. Mi metto lì. Faccio i cosini, le robe. Mi porto dei pezzi. Li monto, le cose. Li faccio lo studio. E li metto dentro quel studio. Mi diverto. Li creo. Quindi a volte quando uno dice Ah quello è contro il metaverso perché ha perso il 3D. No, 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 no. E ora il metaverso. Neil Stevenson. Che nel 92 scrive un romanzo. In questo romanzo uno dei tanti di fantascienza Usa e conia per primo il termine metaverso. Bene. Si riferisce a cosa? A quello che c'era scritto nel romanzo. Cioè in questa civiltà, società In cui c'è distopico Nel senso che esiste un mondo parallelo Terzo Cioè vuol dire che è un po' un modo per scappare Da una società oppressiva Questo era quello che raccontava, no? Il libro. Fisica. E le persone riuscivano ad avere una vita parallela Quindi equiparabile a quella fisica Digitale Vedete che non uso la parola virtuale E là dentro riuscivano a scambiarsi cose e a vivere Quindi relazioni, soldi, economia, eccetera Perché? Perché questo mondo non era posseduto da nessuno Ok? Quindi un mondo Dove tu ti collegavi Prendete Ready Player One il film Ti collegavi e entri là dentro Internet non è un po' così Pensateci No, metaverso non è internet, eh Però dico Internet non è un po' così Non è di nessuno Alcune applicazioni sono di qualcuno Ma io posso entrare e vivere dentro questo mondo Chiaramente è internet per altre ragioni In altre forme Mutati, mutandis Ma comunque è un mondo Come dire Di nessuno Cioè il protocollo è stato reso disponibile al mondo Non c'è un proprietario di internet La rete, voglio dire Ci sono vari pezzi Ma non è nessuno proprietario del tutto Ok, ma di internet ce n'è una Giusto? Non è che vi posso dire nella mia internet Al massimo nella mia intranet Non è che posso dire che Le varie internet è sbagliato Quindi quando vi dicono I metaversi È un errore Ce n'è uno Al massimo Ammesso Cioè non c'è adesso Ammesso che si parli di metaverso Ok? Quindi un mondo di terzi eccetera Che ha anche delle caratteristiche No? Non c'è nessuno che te lo può portare via Perché già la fisica Quella fisica era oppressiva Nel 2018 Zuckerberg deve aver visto il film Ha riletto il libro Sempre che l'abbia letto prima È massacrato Dai media Era sotto pressione Tutti i giorni sui giornali Era distrutto E fa una mossa di comunicazione Avendo tanti soldi Ed avendo gente brava E dice Andiamo a raccontare questa storia Mettiamo un bel po' di soldi sul tavolo E raccontiamo questa storia qua Del fatto che noi ci rivoluzioniamo Ci chiamiamo meta Noi adesso facciamo il mondo virtuale di tutti Facciamo E in effetti La sua idea di base Che ha in mente Di tutta la fuffa che circola in sto mondo Del metaverso È l'unico Che in qualche modo Perlomeno Non completamente Poi vi faccio vedere perché Ma almeno sta parlando di quella roba lì Cioè Dice Lui io voglio creare Ovvio il suo però È tutto mio Però Vuole creare Il mondo virtuale Di tutti Vorrebbe Poi in realtà è impossibile Perché di un'azienda privata Quindi già tutto il concetto di metaverso salta Però vabbè fa niente Vuole crearlo per davvero E a un certo punto Piglia un pacco di soldi Perché comunque E ci mette come abbiamo sentito Che prima 13 miliardi Si butta là Nel frattempo che cosa succede Nel mondo della comunicazione Adesso incominciamo a mettere insieme Tutti i pezzi dell'ego Succede che Sono stati tanti anni Senza novità Cioè Io che sono un futurologo Con le basi Per poterlo essere Perché oggi lo sono tutti Un po' come i virologi Mi chiedono sempre Mi dice una cosa Dai Qual è la prossima novità Cioè C'è bisogno di vedere La prossima novità Cioè no E uno dice Guarda Ascolta Cominciamo a vedere il presente E cosa è successo in questi anni Sono arrivate due cose Qualche anno prima Dal 2010 in poi Con bitcoin eccetera È arrivato il mondo Crypto, blockchain E NFT E è successa una cosa magica Il metaverso Quello di Zuckerberg La sua parola Che stava già lanciando Ha avuto un'esplosione Perché Avete presente Quelli che vi vendono le cose online Quante volte vi beccate Tutti Vi vendono cose Adesso con le crypto Puoi diventare ricco O le leggete Sono incredibili Quelli lì Hanno detto Ah ma Ma aspetta Ma il metaverso Quello là È quello decentralizzato Quello libero Quello fuori dal potere Anche noi siamo così E allora Si sono appropriati Del termine metaverso Pure loro E quindi pure loro Sono messi a spingere Patapam patapam Metaverso Crypto Crypto NFT Non c'entra niente Metaverdi NFT Non lo sanno neanche loro Che cosa c'entra Ha messo assieme tutti i pezzi Tutto quello che vi ho detto fino adesso È confusione Ci mancava pure questa Dei cripto vendoli Che si sono messi A causarsi del metaverso Che cosa dovrebbe essere Il metaverso Secondo me E non solo secondo me Ci sono dieci pilastri Che definiscono Il metaverso Definiamolo Dovete sapere una cosa A un certo punto Nasce il Metaverse Standard Forum Organismo internazionale Per la definizione Degli standard Del metaverso Giustamente Bisogna mettersi d'accordo E io sono tra i primissimi Il decimo Dopometra A partecipare Come Marco Peraltro l'unico col nome Come spesso accade Nel senso che io sono libero Da aziende Sono libero Da Sono libero Infatti come dire a volte Magari in queste occasioni C'è sempre qualcuno Che mi deve vendere qualcosa Ecco Io sono qui Pagato Ed è bello dirlo Perché Vi dico la verità Non ho bisogno di vendervi niente Me ne vado a casa Senza vendervi niente Ok E questo è molto importante Perché spesso nei convegni Di settore O da una parte C'è qualcuno che vuole vendere qualcosa E quindi là dentro Io la prima cosa che ho fatto Cos'è che faccio io Nel metaverso Anderforo Dico Scusate posso fare delle domande Ho messo una serie di elementi Ho detto Scusate Visto che siete tutti esperti In metaverso Mi dite che cos'è il metaverso Allora nessuno rispondeva Ovviamente Allora ho detto C'entrano gli nft? C'entrano le cripto? Immersivo o no? Cioè È una banale domanda Pensateci Per potersi definire metaverso Deve essere immersivo o no? Va bene se io vedo uno schermo 2D Con dentro una roba in 2D In 3D dentro uno schermo 2D? Sì o no? Se uno mi dice sì Posso però arguire un po' Perché dico Ma è vent'anni che guardi roba in 3D Dentro lo schermo 2D? Allora Minimo deve essere immersivo È venuta fuori Una cozzaglia Tra gli attori del settore E allora ho detto Vediamo che cosa viene fuori Allora innanzitutto Il metaverso Non è un videogame Già allora I videogame immersivi Le cose Spara spara Cosa c'entra? Cioè diteglielo Tirategli le banane Quando vi dicono Che questo qui è il metaverso Cioè Vediamo un videogame Il business è un videogame È pieno di soldi È complicato Difficile da coso Leader Vogliamo investire in questa roba? Andiamo a farlo Ma è là che si deve combattere Per forza che vi dicono Che c'è il metaversino Perché di là La competizione è forte Questi sono videogame Ma questa è roba che È oggi E questi ci fanno vedere L'omino storto a scatti Ma ci stanno prendendo in giro Ok Due Uno solo Ma chi è che lo dice? Mica lo dico io Lo dice quello che ha inventato La parola del metaverso E volete da me? Lo dice Neil Stevenson Neil Stevenson Che è quello in mezzo Che sembra poco vivo Perché è nel metaverso In questo momento Neil Stevenson Dice Deve essere uno solo Quello ha inventato la parola Le parole sono importanti? Perfetto L'ha detto lui Quindi è vero Sì Perfetto Immersivo No dico Me lo volete dare che è immersivo Perché se non è manco immersivo Ed è un televisorino Con una robina 2D Deve essere renderizzato in real time Cioè non è che io posso entrare E fare loading 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 Per vedere l'altro che appare E mi dice una cosa Deve essere globalmente sincrono Perché i server non sono in grado Anche quelli dei big Di gestire Tante persone collegate Intemporaneamente Renderizzando in 3D Tutta quella roba là Qui È un concerto Di Marshmallow Che ha Nel 2019 Dentro Fortnite E c'erano Se leggi la stampa 11 milioni di persone connesse A guardarlo Però non era vero Cioè C'erano in totale 11 milioni di persone Ma C'erano 100.000 istanze diverse E ognuna aveva circa 100 giocatori Perché hanno il limite Sto parlando di Fortnite Che di soldi ne hanno tanti Il limite È di farne stare insieme Massimo 100 Cioè più di 100 Non potevano stare Quindi Ti sembrava Di stare dentro un mondo Ma ognuno ce ne aveva 100 Non c'era possibilità Di interazione reale E non ci sarebbe mai stata Perché La centesima istanza di là Non poteva parlare Con la cinquantesima Perché erano in due mondi separati Persistente Cosa vuol dire? Se io spengo Facebook È persistente Non è che io spengo Veramente Facebook Chiudo il mio Facebook Ma quello va avanti Massivamente scalabile Cioè vuol dire Che devo poter raggiungere 3 miliardi 3 miliardi Sono su Facebook Almeno 3 miliardi Mi devi dare Di possibilità Di arrivare alla gente Se mi stai sotto È un problemino Cioè almeno 3 miliardi Deve essere decentralizzato Perché altrimenti Se è centralizzato Pensate se vi spengono il mondo Cioè non è che vi posso far andare a vivere In un mondo alternativo Di proprietà di uno Non vi piace Per niente Quindi me lo devi decentralizzare Cioè deve essere una roba dove Come internet Non lo puoi spegnere E deve essere open source Cioè che vuol dire? Cioè vuol dire che quello che c'è dentro Quello che fanno Quello che succede Deve essere disponibile a tutti Devono vedere cosa succede lì dentro Cioè se no mi prendi in giro Se no dici che io ho il conto E poi non ce l'ho E deve essere interoperabile Che vuol dire? Vuol dire Se io ho un dispositivo della Oculus E poi quel mio amico c'ha il pico Dobbiamo tutti e due andare Nello stesso metaverso in teoria Se proprio lo vogliamo fare E gli altri vi fanno confusione Adesso vi fregheranno molto molto meno A Torino il festival del metaverso Ma se non c'è Che di cosa parlano? E infatti quando vai Parlano del futuro che deve arrivare Vi spaventano tutti Attenzione siete fuori dal mondo E quindi dovete comparare il nostro metaverso Noi siamo bravissimi Hai capito? The gut and the wolf Poi Questo qui ha fatto il giro L'avete visto? La serie Ava nel metaverso Cosa hanno fatto? Hanno fatto una stanza in 3D Non immersiva E dentro hanno messo la partita Che si vede molto peggio Che metterla Ma state scherzando Le istituzioni impazzite Del MISE Funzionali allo sviluppo delle tecnologie Applicazioni di intelligenza artificiale Blockchain Internet of Things E anche mediante il paradigma del metaverso Ma questi spendono i soldi sul metaverso Paolo Savona Grande economista Ma credo che non capisca un cranchete digitale Attenzione Regoliamo il metaverso Non lo mettiamo prima che sia troppo tardi Serve un accordo internazionale Ma serve un accordo internazionale per ben altro E non è colpa loro Ma hanno intorno A volte degli entusiasti Che partono per la tangente Aziende che impazziscono BMW Cioè sei tu dentro una roba che galleggia E fanno anche la pubblicità E tu Questo è quello che Provatelo Vi prego Provatelo Cioè tu entri Con difficoltà Dentro questa roba Che a certo punto Dopo un'ora Sei riuscito a vedere una macchina Mezza in 3D Storta Che si avvicina È un incubo Qua ho provato l'altro giorno Un'altra roba Un'azienda di borse Che dice Finalmente siamo Sbarcano tutti nel metaverso Sbarcati nel metaverso E questo omino qua Non riesco neanche a farlo girare E non è che proprio non son capace Si deve muovere tutto di lato Vedi clicco non succede niente Clicco non succede niente Non riesco Devo andare avanti e girare a destra Quindi Devo camminare così Praticamente Finalmente Un po' storto Riesco ad arrivare A una cosa E questo è il risultato Cioè Per farmi vedere un'immagine Ci ho messo un quarto d'ora Fanno carrelli e levatori Hanno preso Il 3D Ve lo giuro Di un carrello elevatore E hanno fatto la cosa Entra nel metaverso Il carrello elevatore In 3D È il metaverso Benvenuto nel metaverso Sono tutti impazziti Business application C'è qualcuno del San Daniele qua È entrato nel metaverso Io non ci posso credere Ed è questo qua il metaverso Io non lo so Io non ho parole Non ho parole L'Avanza entra in metaverso Attenzione Con l'Avanza Arena su Roblox Ma Roblox è un videogame E questo qui sarebbe il metaverso Ma le avete mai visti i videogame nel 2022? Ma cos'è? C'è qualcuno che gliel'ha venduto È qualcuno che l'ha comprato È qualcuno che l'ha comprato Ma perché? È grave Capito? Ovviamente Tim Cook Dice Aspetta qua A me non Min Cook E dice E dice una parola metaverso Noi non la usiamo E l'avevo prevista anche un anno prima Perché? 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 Perché è una pessima reputazione Però andiamo un po' nel dettaglio Andiamo lì a vedere Le cose più vicine al metaverso Secondo tutto quello che abbiamo detto fino adesso Vediamo quali sono e che caratteristiche hanno Decentroland Ok? Ha 300.000 utenti registrati Esiste da ormai un mucchio di anni Dicono che abbia 38 utenti al giorno Loro si sono arrabbiati e hanno detto No! Ce n'abbiamo 39.000 Sapete Facebook quanti utenti ha al giorno? Un miliardo e quattro Di cosa stiamo parlando? 39.000 39.000 Quindi andiamo a vedere la nostra listariella Non è un videogame Perché in effetti Decentroland non è un videogame Vai vai Ti parli Non è che spari spari Uccidi qualcuno Giochi saltelli Vai in giro Cioè serve per interagire Non è un videogame Però non è uno solo Però non è immersivo È renderizzato in realtà Ma non è globalmente sincrono Per il problema che sappiamo E questo non lo è nessuno È persistente Se esco rimane lì È massivamente scalabile Perché è decentralizzato L'unico Veramente decentralizzato Di un po' importante Gli altri al posto di lavoro 38 utenti ne hanno 6 Ci sono anche quelli da 6 Non è open source Cioè è roba loro E non è interoperabile Cioè stai lì Addirittura è l'unico Un po' come ha tanti numeri Cioè 39 utenti Che ha gli NFT Cioè in piribim Parapà Non può esportarlo Non è spostabile da lì Ma di che cosa stiamo parlando? I quali metà verso Una casa tua No? Quanto brutto è Dire ve l'avevo detto Ma è terribile Però effettivamente Da un anno che dicevo Ma di che cosa stiamo parlando? E mettevo i numeri I numeri poi i giornalisti Se ne sono accorti Second Life Second Life Attualmente 600 mili di fatturato 80 milioni di utili Ma come vedete Senza farvi pippone ogni volta Ne mancano un po' Ok? Tutti quelli rossi Sono quello che non è Quindi Se non sono Se vedete del rosso Non è il metaverso Sandbox Roblox ha 146 milioni registrati Oh! 43 milioni di utenti giornalieri Oh! Ma perché è un videogame? Per forza È barrato là sopra Perché è un videogame E poi abbiamo Fortnite Che i numeri Anche loro li hanno 350 milioni di utenti 30 milioni di utenti giornalieri Ce li hanno E poi arriva Secondo me Il migliore Vi assicuro Non sono pagato da loro Anzi Se leggete quello che scrivo Qualcuno mi segue Sapete che Non mi vogliono benissimo Avevo scritto un libro Che si chiama Fuga da Facebook Nel 2012 Vi dico solo questo 200 mila utenti giornalieri 20 milioni di Oculus venduti Eh! Perché ragazzi? E qui è veramente Una mia opinione personale Disclaimer Fino adesso Secondo me Vi ho dato dei fatti Ora vi do La mia opinione personale Solo la mia opinione personale Andare Usare la realtà virtuale Entrare nella realtà virtuale Usare la realtà virtuale È scomodo È distopico È isolante Ti fa paura Sai che hai anche quella FOMO Firmo missing out Paura di non star vivendo il mondo fisico Cioè quando sei isolato Hai un senso d'ansia Solo per il fatto che sei isolato Anche quando sei nella migliore realtà virtuale Non credo che la gente Per andare a comprare una cosa Si metta su un visore E vada là Cioè non credo farà così È complicato muoversi È complicato interagire È inusabile Vedete bene i siti dove fai fatica a raggiungere È inusabile Quindi io credo che Generally speaking Al di là del metaverso L'adozione di massa È lontanissima È per quello che non ce la sta facendo Zuckerberg Lui ci crede E ci ha ragione Forse Ma molto più avanti E non sarà certamente il metaverso Al massimo È una buona realtà virtuale E anche il nostro amico Zuckerberg Purtroppo Si è perso Un po' Ha un po' di righe rosse Però vedete che sono meno righe rosse degli altri No? Non è male Perché Un pochino perché è stato lui in fondo A dire Metaverso Gli altri Ah c'è vero Nel 1980 se ne parlava 90 È stato lui in fondo Quindi ce l'aveva un po' Almeno mezza idea chiara Paradossalmente Non è lui che dice Troppe pirlatte Sono gli altri che gli hanno rubato La terra sotto i piedi Se l'è un po' andata a cercare E quindi gli hanno un po' rovinato Il suo piano No? E questo lo sapete Nemmeno i dipendenti lo usano Ma sapete perché Nemmeno i dipendenti lo usano? Per il motivo che vi ho appena detto Secondo me Perché è scomodo È fastidioso È scomodo Io ce l'ho a casa Da quando sono usciti Anche i primi Prototipi Allora adesso dai Facciamo la prova del 9 Con la nostra tabellina Vediamo questo che cos'è Eh? Niente Ma niente Non ce l'ha una Non ne ha una Una Dico Ma dico Almeno una Non ce l'ha Non è un videogame Non è uno solo Non è immersivo Non è renderizzato Non è sincrono Non è presitente Non è scalario Non è interrope Non è niente E lo chiamano metaverso Sono andato a vedere Il numero di utenti di ognuno Sono andato a vedere Quanto è la valutazione Quanti sono gli utenti giornalieri E l'ho diviso E ho detto Vediamo quindi quanti dollari Pagano a utente E come mai Decentraland Secondo la valutazione 25.000 dollari a utente Qui c'è una bolla Che chiaramente Sta esplodendo E in tutto questo Arrivano loro Che fanno L'ultimo danno Proprio Allora Fanno questo mischione Qua delirante Per fregare la gente Consciamente O inconsciamente Guardate che Vi ricordate Questi casi qua I maghi delle cripto Che spavano Tutti vendevano Anche il metaverso Adesso non si vede Tutti Vedevano il metaverso Poi sono talmente Dei geni del marketing Che mi mandano I comunicati a me All'attenzione di Marco E se c'è la notizia Nascono i primi NFT Primi tocchi esperienziali Che riportano Il metaverso Nella realtà Dico ma Sentite cosa ha messo Visori Che non li fanno Non li fanno Li fanno solo i big Calcio mercato Ah Poteva mettere anche Banane Lamponi Nel metaverso E il calcio Nel web 3.0 Lavorare nel metaverso Scopri la lezione gratuita Cioè Immaginate questi qua Che cosa possono fare Là dentro Cioè hanno messo Il metaverso Per vendere degli NFT Dovete pensare Alle basi Cioè Io vedo sempre La ricerca del Qual è la novità Abbiamo siti Schifosi Inutilizzabili Che non si riescono A navigare E-commerce Dove Siamo abituati A entrare nell'app Di Facebook Clicchi e va Instagram Clicchi e va Clicchi e va Vai nei vostri e-commerce Clicchi e non va E questo Entri Compili i campi 76 Perché sai Mi porto a A casa le informazioni Sì ma non te le dà Non c'ha voglia Vai avanti Ti dice errore Torni indietro E non c'è più niente E parliamo del metaverso Quello dobbiamo tornare a fare Andiamo a guardare Le nostre batch Abbiamo le applicazioni Per tutte le piattaforme Abbiamo i siti che funzionano Quello ci serve fare Questo è un tipico prodotto Google Questo è un tipico prodotto Apple Perché questo è il sito Delle aziende Perché Ah e questo qui è il povero utente Che ci deve navigare Perché Tu con la ruota Che cerchi di andare Da quelli che hanno i quadratoni E loro ti dicono No siamo troppo Siamo già nei guai E però vanno Dai il gatto e la volpe Nel metaverso Non solo voglio diventare Entrare nel metaverso Ma voglio pure spendere poco E succede così Dice Ho comprato il metaverso Eh sì Però era così in realtà Solo che tu hai comprato questo qua E non è un problema di risorse È di saperle usare Altrimenti Miau E ricordatevi che Quando è miau Bau C'è qualcun altro Che Ci gode Cioè Non è che Dici andata tutto male No c'è un altro che si porta via Al vostro mercato Cioè gli squali sono felicissimi Quando vedono il finale di Titanic Capito Cioè non è una tragedia Però è un film Bello Che finisce bene Hai capito E poi adesso Ho detto Voglio un po' di positività Però se no Cioè proprio Pam Dici come è andato Malissimo Cioè volevo andare nel metaverso Cioè ho vergogno Se lo dire Allora ho detto Fammi Fammi Sparare due slide Che ci tirano un po' il suo E poi abbiamo chiuso Non è mai troppo tardi La slide della positività Cioè no Di uno che è proprio positivo E ho detto Dove la trovo? Ditemi se è giusta Eh? E poi ho detto L'ultima proprio Poi è finita L'ultima E poi ho detto Magari uno è lì che è indietro E poi è l'ultimo Pam No ce la fa Quante volte l'abbè vista E lì dove la trovo? Eccola qua Tac Standing ovation E ho finito Applausi Grazie Applausi Grazie 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 Grazie